A me piace cucinare perché mi permette di seguire uno schema, però al tempo stesso sarei anche creativa. Seguo sempre la ricetta, la lettera, la prima volta che la faccio. Una volta che la assaggio poi dico che la prossima volta cambia questo, cambia quell'altro, cambia quell'altro, a certo punto la stravolgo e diventa mia. Un piatto con una relazione emotiva sono i pancake, perché sabato e domenica la colazione che preparo per me e mio marito. Io ho studiato matematica e matematica è la scienza più logica e con più schemi possibili che si possa forse immaginare, però se alla fine uno fa matematica passivamente senza un po' di creatività diventa un esecutore passivo di quello che altri hanno fatto. Sei abituato a imparare tante cose anche molto astratte, molto particolari, molto anche difficili a volte e quindi anche l'approccio a un problema nuovo è una cosa che ti forma. Sono candidata per il graduate program e sono stata assunta, scelto di lavorare nella sezione della quality assurance. E poi il mio lavoro consiste nel seguire passo passo gli sviluppi. Una volta che secondo lo sviluppatore la funzionalità è finita, va provato il flusso giusto, diciamo, tra virgolette, dopodiché si provano i possibili rami dell'alberatura che non erano stati pensati o magari sono stati pensati, devo vedere che siano stati pensati correttamente. Alla fine del mio lavoro, quando vedo tutte le lucine verdi che mi marcano che il mio lavoro è stato fatto bene e è concluso, mi dà molta soddisfazione vederlo lì tutto ben fatto. quasi come il pancake del sabato mattina. Sono Eleonora Perversi, sono Quality Assurance Tester in Facility Live.